Monsignor D'Ercole, è una tradizione che si ripete ogni anno, questa della Tendopoli, e c'è quasi un passaggio di consegne tra la Tendopoli dei giovani di San Gabriele e la perdonanza all'Aquila. Possiamo vederla così? Beh, non ci avevo pensato, ma possiamo vedere anche così, data la vicinanza geografica e poi anche data la vicinanza del messaggio. Diciamo che i giovani qui riflettono su tematiche che toccano la vita e l'impegno, la risposta a quello che Dio chiede da loro, e la perdonanza in fondo è un po' l'occasione in cui rivedere, rimeditare la propria vocazione cristiana e utilizzare al massimo la misericordia di Dio attraverso il suo perdono e le indulgenze legate alla perdonanza. Il fatto che tanti giovani si ritrovino qui ogni anno a pregare, a riflettere, quanto è importante? Ma indubbiamente è importante per tantissimi motivi. A me colpisce per due ragioni abbastanza intuibili e facilmente esprimibili. La prima perché i ragazzi oggi sono molto portati a vivere chiusi in se stessi, magari a realizzare relazioni virtuali, ma con difficoltà spesso di concretizzare rapporti umani così concreti, visibili, tangibili. Dare spazio ai ragazzi che possano confrontarsi con la verità della fede e possano anche manifestare, ascoltare intanto, approfondire le ragioni della loro fede e conoscere soprattutto delle testimonianze e capire che non sono soli quando si impegnano. Questo è dal punto di vista spirituale fondamentale perché la vocazione cristiana è personale ma non è individuale. Domani è la festa di San Gabriele della Dolorata, il patrono d'Abruzzo e il padrone di casa qui, il santo dei giovani anche. Ma non si parla troppo poco di questo santo? Che l'esempio di San Gabriele non venga proposto parecchio, questo può essere anche vero. E occasioni come queste sono importanti. Però vorrei dire che il santuario e la celebrazione almeno che si fa domani, che vede ogni anno spostata da febbraio ad oggi proprio per permettere a molti di venire, è una grande occasione. Io penso che se la gente viene qui vuol dire che ha sentito parlarne e quindi poi tutto sommato di San Gabriele si continua a parlare.